La Calabria torna in zona gialla. Le nuove misure saranno in vigore da lunedì 10 maggio. Il passaggio dall'arancione alla fascia con meno restrizioni è arrivata dopo il monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità che ha attestato uno scenario di trasmissibilità tipo 1 e una classificazione del rischio moderata anche se ad alta probabilità di progressione. Con la zona gialla si applicano le novità introdotte dal decreto riaperture del 22 aprile scorso. Dunque ci sarà maggiore libertà di spostamenti, bar e ristoranti potranno servire i tavoli a cena purché all'aperto e riprenderanno le attività nei cinema e nei teatri. È possibile che già a partire dalla prossima settimana ci siano ulteriori revisioni del governo come quella di spostare il coprifuoco dalle 22 alle 23 o 24 addirittura e anticipare le riaperture di alcune attività rispetto alla roadmap fissata nelle settimane scorse. Secondo i dati ufficiali la Calabria è l'unica regione d'Italia assieme al Molise con il numero di Focolai in salita ma che con l'indice RT più basso di tutti a 0,74. Nel frattempo resta l'allerta sul tracciamento ancora al di sotto del 90% dei casi trovati e una classificazione complessiva di rischio moderata con alta probabilità di progressione. Dando uno sguardo ai numeri sale nuovamente il numero dei nuovi positivi. Sono 460 con 3.542 nuovi soggetti testati. Altre 7 persone hanno perso la vita per un totale di 1.064 dall'inizio dell'epidemia. In calo i ricoverati di 10 unità in reparto si arriva a 416 e di 2 unità in terapia intensiva arrivando a 36. Sul fronte dei vaccini rimane ancora il problema di molti cittadini per prenotare il vaccino come conviventi di persone estremamente fragili. L'inghippo sarebbe di poste italiane. Molti codici fiscali non sono associati alla categoria. La soluzione, stando al call center, è aspettare la prossima settimana e attendere lo sblocco. Ma intanto proteste un po' dappertutto. Diamo uno sguardo nelle singole province calabresi. A Cadanzaro ci sono 87 nuovi contagi e purtroppo si registra una vittima all'ospedale pugliese, un anziano di Platania. Tre nuovi casi sono emersi alla mezzia terme che conta attualmente 470 contagi attivi. Continuano a restare osservati speciali comuni di Girifalco e Borgia. Migliora anche la situazione a Squillace dove con l'infornata di guarigioni di ieri, ben 23, i casi scendono a 46. Cosenza continua a portare la maglia nera in termini di contagi. I numeri 187 i nuovi casi di positività. Non arrestano i decessi, solo ieri altri 4. Ancora ad essere colpite le scuole. Due casi di positività a Francavilla sono stati riscontrati nelle scorse ore tra gli iscritti alla scuola dell'infanzia nel plesso scolastico della Silva. A Cariati ancora non si è spento l'eco del cosiddetto caso con il Vax Day che ha avuto come protagonisti una sessantina di maturandi che sono stati vaccinati. Nella provincia di Reggio Calabria per fortuna si registra una tregua sui decessi. Sono però 98 i nuovi positivi che sono comunque in aumento ma 124 sono le guarigioni che portano il segno meno. La situazione dicevamo non è errosa anche in altre città della piana di Gioia Tauro. Ad esempio a Città Nova 104 sono i casi attivi ma anche a Città Nova con 76 errosano circa una cinquantina di positivi. Nella Locride anche nei piccoli comuni c'è un'escalation di contagi. Parliamo di Antonimina dove il sindaco invita alla prudenza, un aumento che porta i casi attivi a 10. Anche nell'altro piccolo centro di Careri dove ci sono poco più di 2000 abitanti alle prese con circa 60 casi attivi.